Io ho indetto la conferenza stampa perché era mia abitudine sia quando ero sindaco che quando ero presidente di fare gli auguri di Natale e questa volta invece ho fatto il regalo di Natale al Movimento 5 Stelle di Civitalecchia perché se non avessero utilizzato il protocollo, l'accordo che io avevo fatto nel 2008 con l'Enel sarebbero dovuti andare a casa. Quindi io mi auguro che i 7 milioni già riscossi e quelli che riscuoteranno perché se leggono bene ci sono altri benefici per qualunque amministrazione pubblica mi aspetterei qualche ringraziamento magari una cartolina da Cozzolino ma soprattutto mi aspetterei che si rimangiassero tutte le calunnie e non ho fatto denunce perché le calunnie chi le ha scritte e chi le ha dette Sono solo dei cretini e io con i cretini non mi confronto però siccome spero che il sindaco abbia l'accortezza di leggersi il protocollo per la seconda volta e di capire che umanamente forse se mi ringrazia per avergli fatto questo regalo all'amministrazione non sarebbe male. Se l'aspettava questo accordo tra Enel e l'amministrazione comunale? Ma a dire la verità io stavo aspettando il Natale perché mi veniva da ridere, dicevo questi non sanno nemmeno leggere perché bastava leggere che scoprivano quello che c'era dentro. C'è anche una proposta da parte di Gianni Moscherini? Anche questa proposta è contenuta all'interno dell'accordo con l'Enel laddove avevo contrattato la possibilità di utilizzare le aree all'interno che fanno parte della proprietà Enel della centrale e quindi a fianco delle centrali fare dei capannoni dove produrre materiale, i profilati, tutte queste cose dell'edilizia che possono essere prodotti con i materiali di risulta della centrale anziché imbarcarli e portarli in giro dando lavoro per carità, il lavoro va dato a tutti, ma in Spagna e nelle fabbriche del nord il comune potrebbe fare un accordo con qualche produttore di queste strutture edili leggere e fare una fabbrica di quei prodotti qua. Grazie